Senti, non si può vivere come vivi tu, sai, esigendo la perfezione. Gesù, ma che cosa diranno mai le generazioni future di noi? Mio Dio, ma sai che un giorno saremo uguali a lui? Dico, sai, beh, lui forse era una delle persone carine, lui forse ballava, giocava a tennis e tutto, e ora guarda qui come ci riduciamo. Sai, è molto importante avere una specie di integrità personale. Io starò così in una classe in avvenire e voglio essere sicuro che quando sarò all'osso io verrò ben giudicato. Ice, dove vai? Ice, commento? Grazie a tutti.